Amici di Icarus, come vedete mi sono già scaldato, 9 colli 2018, io e mio gregario Alessandro ci siamo persino persi in partenza, ho provato a pensare in mezzo a 12.000 ciclisti cosa voglia dire alle 6 di mattina, un'emozione unica. E ci aspetteranno ancora 100 km per concludere questa che è la regina delle Gran Fondo a livello mondiale. Grazie a tutti!